Sindaco Maragno, si parla dell'approvazione del bilancio, del ritorno ad una certa normalità nel centro-destra dopo le polemiche che ci sono state negli ultimi giorni. Sarà così? Diciamo che le polemiche fanno parte della politica, non è un gioco di parole, ma è quello che quotidianamente qualunque amministrazione vive. Il confronto che a volte diventa scontro, l'importante è comunque rimanere nei canoni della decenza e perseguire l'interesse collettivo. Anche a Montesilvano stiamo lavorando a questo, stiamo lavorando per cercare di fare sintesi rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio e quindi pianificare tutta una serie di spese e di interventi esclusivamente per migliorare l'aspettativa dei cittadini. Tornando alle questioni del centro-destra a Montesilvano, qualche settimana fa erano arrivate però le dimissioni dell'assessore Cilli? Anche queste fanno parte comunque di un contesto, di un confronto. Le dimissioni sono arrivate, sono ancora sul mio tavolo, ma questo non significa che non si possa ricomporre una situazione che oggettivamente non è mai stata così agli antipodi. Lo faremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, con il consueto buonsenso che credo che stia animando la mia amministrazione e considerando tutti gli alleati e tutti i partecipi a questo progetto comune, questo percorso condiviso come tutti utili, ovviamente come si suol dire sono tutti utili e nessuno indispensabile, ma con la consapevolezza che comunque i risultati sono a nostra portata e che tutti, anche quelli che oggi magari rappresentano delle posizioni un pochettino più distanti, possano dare il loro contributo per far ritornare a correre Montesilvano.